Domenica ci sarà questo concerto di Tosca molto atteso all'insegna della solidarietà e a favore dei diritti per coloro che sono affetti da autismo. Sì, è una tradizione ormai che ci portiamo avanti dal 2016. Noi l'abbiamo definito concerto per l'autismo, negli anni abbiamo avuto Roberto Vecchioni, Patty Smith, Stalle Jordan, uno spettacolo di Amanda Sandrelli. Quest'anno avevamo programmato un grande evento, naturalmente nel mese di aprile, che è il mese blu dell'autismo, causa pandemia è stato tutto annullato e rimandato. Siamo riusciti a recuperare con Tosca, che è una cara amica, un grande artista, questo appuntamento che ora domenica 13 speriamo di avere tante persone. L'obiettivo nostro, oltre che naturalmente speriamo di recuperare anche delle risorse, ma fondamentalmente rimane quello di far conoscere il mondo delle persone con autismo, delle famiglie, le difficoltà nelle quali tutti noi viviamo e che non dobbiamo avere paura o sospetto delle persone con autismo perché ci sono tante cose che si possono fare, sono persone come noi, con le nostre stesse aspirazioni. Ricordiamo la location e l'orario. Allora sì, naturalmente il concerto è all'Anfiteatro, nell'ambito di Anfiteatro Sotto le Stelle, desidero ringraziare Comune, Fondazione, ma anche la ASL e tanti tanti sponsor privati che ci sostengono, aziende che anche in questa fase hanno voluto sostenere il nostro evento. L'appuntamento è all'eventuno, naturalmente come tutti gli eventi dell'Anfiteatro seguirà le regole strettissime del Covid, quindi con ingressi scaglionati, staremo molto attenti su questo, però l'ingresso e il prezzo e il biglietto siamo stati molto popolari, in linea con gli altri spettacoli, il costo è 25 euro, prezzo unico, biglietto unico. Invito tutti a venire perché non sarà comunque un concerto come gli altri. Tosca si è impegnata personalmente in prima linea in questa battaglia di diritto e dei diritti per le persone più fragili, quindi sarà anche un momento per conoscerci e farci conoscere ancora di più alla città e al nostro territorio. Grazie a tutti per chi ci sarà in presenza, ma anche chi non potrà, ma ci sostiene anche a distanza.